Fa caldo, tanto caldo, però sono andata a fare la spesa. Cosa ho preso? Eccolo qua. Oggi spesa, diciamo prettamente estiva, perché io per me, questa è la spesa estiva, perché non voglio, lo dico onestamente, non voglio cucinare roba calda. Non voglio fare piatti caldi, allora mi butto su quello che posso col fresco. Cosa ho preso? Ecco qua. Allora, mi mancava del vino, per cui ho fatto un mix bianco, rosso e rosè. Ho preso tre insalate iceberg, che alla fine sono quelle che, non che costano meno, ma che danno meno spreco. Poi, patate, per farci forse l'unica cosa che farò calda l'insalata di patate, perché le patate vanno cotte. Ho preso dei pompelmi, perché mi piacciono e ogni tanto la voglia mi viene. Ho preso banane, per un po' di fosfora, bisogna tenersi su ragazzi, non è costo caldo, bisogna tenersi su. Tonno, pinna gialla, questi sono pinna gialla. Il solito pane sandwich, che è qui in casa, non manca mai. E poi, cosa ho preso ancora? Ho preso del pane per fare delle belle bruschette. Facciamo delle belle bruschette, perché abbiamo tutti gli ingredienti, voglio dire. Poi ho preso affettati, salame, prosciutto cotto, e ho preso anche del prosciutto crudo da mangiare insieme al melone, che male non fa, anzi, anzi, anzi. Ho preso mozzarella, perché ve l'ho detto, io vado col fresco, adesso vado col fresco, se posso vado col fresco. Poi ho preso pomodorini, e poi per finire ho preso del formaggio, perché c'è periodi dell'anno in cui ho bisogno del formaggio, per cui ho preso del provolone piccante, in modo da avere un po' più di sapore, e del formaggio gouda. E niente, questa è la spesa di questa mattina, tutta l'insegna della freschezza, per cui insalate, 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 ciao! Ciao!